La sicurezza è un bene comune che va monitorato giorno dopo giorno da tutti. E' questa l'interrogazione fatta al primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli, da parte del capogruppo di minoranza Alessandro Lo Schiavo. Anche quest'anno, continua Lo Schiavo, abbiamo fatto richiesta per ottenere le certificazioni di agibilità statico-sismica di tutte le scuole del territorio, lo stato di salute di ogni singolo complesso degli interventi effettuati e da effettuarsi, l'igiene degli ambienti, le prove di vulnerabilità sismica sono alcuni degli aspetti che sono stati trattati nell'interrogazione protocollata al comune. Un'interrogazione è rivolta al sindaco di Castellabate per conoscere lo stato di salute delle scuole del nostro comune. Un percorso sulla sicurezza dei nostri edifici scolastici intrapreso dalla minoranza consigliare già da qualche anno e dal 2016 fino ad oggi, ripetutamente, abbiamo richiesto quello che è la prova reggina sull'ottimo stato di salute delle nostre scuole, ovvero la certificazione di agibilità statico-sismica di ogni plesso scolastico che insiste sul nostro territorio. I colleghi consiglieri di minoranza, Caterina De Bianzi e Luigi Maurano, negli anni scolastici trascorsi hanno fatto delle analoghe richieste ed io, a coronamento di questo lavoro, al rafforzamento di quanto richiesto dai colleghi, ho voluto ricalcare in un certo qual modo questa richiesta interrogando il sindaco rispetto alla mancata consegna di questa documentazione legata appunto all'agibilità statico-sismica e ho voluto interrogare il sindaco anche rispetto ad altri aspetti secondari ma sicuramente importanti per il buon funzionamento, per la sicurezza di ogni singolo plesso, rispetto a quello che è lo stato dei servizi, rispetto a quello che è lo stato degli infissi, dell'impiantistica di sicurezza come l'antincendio, delle uscite di sicurezza, oltre chiaramente a fare il punto della situazione relativamente all'igiene degli ambienti, agli impianti elettrici, di riscaldamento, per avere in copia appunto questa certificazione che ho ribadito più volte durante il corso di questa intervista, per conoscere il programma dettagliato degli interventi effettuati e da farsi lungo il corso dell'anno, lungo il corso degli anni. Io sono del parere che la sicurezza, essendo un bene comune, che appartiene a tutti, che va monitorato giorno dopo giorno, deve avere un carattere predominante e prioritario nell'agenda politica di tutte le amministrazioni comunali.